Ben ritrovati, fa sicuramente discutere la sentenza del giudice monocratico del Tribunale d'Imperia il quale è stabilito che il fatto non costituisce reato riferendosi al saluto romano effettuato da due politici in Liguria che sono stati appunto assolti dall'accusa di apologia del fascismo. L'episodio si era verificato durante una celebrazione presso il cimitero di Sanremo in memoria dei caduti della Repubblica Sociale Italiana. Ne parliamo di questo con Ettore De Concilis, dirigente della Lega, intanto ben ritrovato e grazie come sempre per la sua disponibilità. Buonasera a lei. Una lunga storia di destra, lo possiamo sottolineare. Dicevo questa è una sentenza che fa discutere De Concilis e secondo lei è giusto che siano stati assolti questi due politici? Le dico la verità, non credo che sia una sentenza che debba far discutere, per me è una nonna notizia, anzi è una notizia d'appendice di cronaca giudiziaria peraltro di un giudice minore e di provincia. Come si possa ipotizzare di condannare qualcuno per una gestualità e peraltro di condannarlo anche appena è piuttosto severa, perché il Pubblico Ministero aveva chiesto tre anni se non sbaglio, per una gestualità in un paese dove probabilmente l'attenzione di politica, magistratura e società civile dovrebbe essere rivolta a ben altre criticità e oggettivamente per quanto mi riguarda una non notizia, cioè non riesco a configurare una fattispecie di reato o una condotta meritevole di essere punita quando in particolar modo nella specifica occasione trattavasi di una commemorazione funebre. Non ci vedo una razza violenta o un atteggiamento in qualche modo criminoso da parte dei soggetti che l'hanno fatto, tutt'al più si può definire determinati atteggiamenti che qualche volta pur si vedono nelle cronache televisive, di un nostalgismo qualche volta sentimentale, altre volte pittoresco, ma sicuramente insomma non meritevoli dell'attenzionamento della magistratura. Lei dice che il fascismo non può tornare. Ma è ovviamente non può tornare nella misura in cui è stato un fenomeno storico caratterizzato sicuramente da un contesto susseguente il bienio rosso, tutto quello che è conseguito dopo la vittoria a Monca della prima guerra mondiale, oggi il mondo va in un altro senso, le prospettive sono diverse, la sensibilità comune è diversa, gli strumenti tecnologici, informativi sono diversi, non ci sono le condizioni, è stato un fenomeno irripetibile nella sua portata politico-istituzionale. Poi è evidente che le rivoluzioni laddove esse arrivano a completamento e quindi non solo quella fascista in Italia, ma tutte le rivoluzioni socialiste, certamente non si lasciano fermare da un'eventuale sentenza di un giudice monocratico di imperia, quindi tecnicamente parlando è tutto molto artificioso e credo che serva esclusivamente a spostare l'attenzione su invece i problemi reali che questo paese sta attraversando e fra questi anche una grave crisi dovuta al depauperimento della nostra sovranità. L'attacco a questa recrudescenza di fascismo che non c'è è sostanzialmente un modo per non solo sviare l'attenzione della pubblica opinione, ma politicamente per orientare una sorta di condanna etica a chiunque si definisca di destra o sovranista. È un tentativo che naturalmente fallisce, basta vedere i risultati elettorali o i sondaggi, ma è anche un tentativo disperato di una controparte politica che ha smesso di svolgere la sua funzione, c'è una sinistra che non rappresenta più gli ultimi, i lavoratori, i cosiddetti proletari e che non ha altro sistema che cercare di mettere fuori dal sistema della logica e qualche volta della legge la propria controparte che ha sempre più consenso, ma non ci riescono in questa operazione. Indubbiamente però si registra un clima difficile di intolleranza nel nostro Paese e c'è chi afferma che è colpa della destra, a lei che cosa risponde? Ma come si può dire colpa della destra se c'è un momento di intolleranza, un momento di difficoltà o tendenzialmente una grammatica della comunicazione che è cambiata? Vedete, il Movimento 5 Stelle, l'esordio di un partito che oggi ha il governo del Paese e che ha raccolto più del 30% dei consensi e nel mezzogiorno più del 50%, l'esordio di quel mondo politico è stato il baffa dei, ce lo ricordiamo, no? È evidente che oggi la grammatica, la terminologia, la linguistica della politica è diventata più brusca anche attraverso i social che danno a tutti l'opportunità di offendere, di denigrare, fino anche di minacciare. In un contesto come questo fa da cassa di risonanza appunto l'immediaticità della comunicazione e episodi indubbiamente condannabili di violenze verbali o di minacce chiaramente vengono amplificati, ma è una cosa ovvia che questo è il linguaggio che purtroppo oggi si adopera. Salvini tutti i giorni trova attacchi sui suoi profili social, ma anche sulle pareti delle mura delle città, attacchi violentissimi, minacce di morte, li abbiamo visti, Salvini a testa giù, spara su Salvini. Nel dibattito politico gli si attribuisce proprio a Salvini la responsabilità di questo clima d'odio. Mi sembra di poter dire che è Salvini che subisca questo clima d'odio, visto almeno se mi è considerato le quante minacce si trovano non solo sui suoi profili social, ma anche sulle pareti, sulle mura di tutte le città dove si invita a spararlo, ad appenderlo a testa in giù o le altre bestedità di questo tipo. La idea è che c'è una componente umana in tutte le persone evidentemente, più risuosa o più animosa, che questa componente viene amplificata dagli strumenti della mediaticità, ma di fatto dirmi che l'Italia è un paese intollerante o è un paese pericoloso per la violenza dei suoi abitanti è una falsità, è una fake news, non ci crede nessuno. Ecco però la scorta alla senatrice Segre che è scampata all'ecidio di Auschwitz, che segnale è secondo lei? Intendiamoci, io nutro massimo rispetto e massima considerazione per la senatrice, per la sua storia, per il patimento e per la sofferenza che ha subito e credo che nonostante sia contrario in generale all'Istituto dei senitori a vita, in questo caso lei possa solo arricchire il Parlamento della sua sensibilità. Ma ciò detto, una cosa è il rispetto doveroso che si deve alla persona, a quello che ha patito in gioventù e a quello che sta patendo anche adesso, perché se esiste qualche idiota che la minaccia, come minacciano tantissimi altri politici, chiaramente è giusto tributare lei una solidarietà, ma da qui a dire che la commissione che porterà il suo nome, istituita come tribunale delle idee, istituita come luogo di censura sulle idee, è una cosa che condivido, ci passa ovviamente la differenza che intercorre fra il giorno e la notte. Massimo rispetto per la senatrice, massima solidarietà per quello che ha vissuto e che sta vivendo, ma non troverete mai da parte mia o da parte della mia collocazione e parte politica la disponibilità a favorire i tribunali delle idee. Le idee si combattono con le idee, con la logica, con la scienza, con l'opportuna analisi, non si combattono con gli strumenti della censura o peggio ancora con le condanne che dovrebbe fare una commissione politica in quanto parlamentare alla quale attribuire un potere giudicante che è completamente una stortura del nostro ordinamento giuridico, lei crede che il nostro codice penale e le nostre leggi non siano abbastanza attrezzate per intervenire laddove ci siano dei reati che possono avere un'aggravante o un'iniziativa basata sull'odio razziale e sulla discriminazione, ci sono gli strumenti, volere metterne uno nuovo, giudicante e affidato alla politica, è proprio qualcosa di orwelliano che a me fa paura in verità. Intanto si discute anche, fanno discutere anche episodi di razzismo che si stanno registrando nel nostro paese, l'ultimo caso arriva dal mondo del calcio con Balotelli, lei che idea si è fatta, insomma come valuta questi episodi che si stanno verificando? Guardi, io sono uno dei pochi italiani che non segue minimamente il calcio, nonostante diciamo mi occupi anche di sport, ma non sono appassionato dello sport nazionale. Da quel che ho sentito, esiste un episodio sgradevole avvenuto e perché ha visto coinvolte una ventina di tifosi, perché da quello che ho sentito non era un cuore che coinvolgeva un intero stadio, un intero acuro, ma una ventina di tifosi che si è ripresa con un calciatore. Questo accade in tutte le partite, di tutti i campionati in questo paese, normalmente dalla terza categoria fino alla Champions League le tifoserie attaccano i giocatori avversari e in questo caso strumentalmente e in maniera idiota, ma sempre nello spirito della tifoseria è stato attaccato un calciatore per il colore della sua pelle, altre volte saranno attaccati per altre cose, per altre motivazioni, per difetti fisici, per condotte non sempre adeguate perché poi nella maggior parte dei casi è su questo che chi attacca sceglie il suo obiettivo. Rimane il fatto che comunque fa parte del gioco, premesso che laddove c'è l'idiozia, l'idiozia vada censurata e vada in qualche modo condannata edicamente, è evidente che noi non possiamo tollerare che si possa naturalmente, diciamo con spontaneità, trasformare ogni occasione sportiva in un'occasione per riversare odio, livore e sostanzialmente malcostumo perché non è una cosa molto intelligente, ma da qui a farne un caso di Stato sinceramente penso che sia eccessivo. Ecco, intanto però c'è anche un clima di intolleranza verso gli immigrati per collegarci sempre al colore della pelle, probabilmente da destra continuano ad arrivare attacchi rispetto alla gestione dei flussi, perché? Però non bisogna fare una sovrapposizione fra il problema dell'immigrazione e la pigmentazione degli immigrati. Cioè noi siamo un Paese che ha una seria crisi economica, che ha un problema serio di disoccupazione e quindi si ritiene che con un welfare in ginocchio, quale è quello italiano, con una spesa pubblica purtroppo costretta dalle necessità del vincolo esterno e dell'austerity che ci impone l'Europa, con un'alta disoccupazione, in particolar modo al sud, in particolar modo giovanile, questo non sia un Paese che può accogliere senza problemi centinaia di migliaia di migranti all'anno, così come sbarcavano quando governava il centro-sinistra. Dire questo non significa essere razzisti, il problema è che noi non possiamo importare altra mano d'opera, visto che è la nostra che non trova collocazione nel mercato del lavoro e visto che contemporaneamente abbiamo un problema di spopolamento delle nostre città e dei nostri comuni, in particolar modo al sud, in particolar modo nell'entroterra. Porre questo problema è qualcosa che non ha a che fare con le questioni razziali. Sarebbe stata esattamente la stessa cosa se l'ondata migratoria, anziché provenire dal sud del mondo, dal continente africano, fosse venuta dall'est del mondo o fino anche dal nord. Cioè è un modo forviante per distogliere l'attenzione e invocare il fantasma del razzismo da parte di chi non sa dare risposte concrete. Gli italiani chiedono casa, lavoro, diritti e si rendono conto che questi diritti vengono in qualche modo concessi con molto affanno dal nostro sistema. Ed è la verità, è incontrovertibile, non si può dire che non sia così. Naturalmente quando poi si vede che l'immigrato, nei confronti del quale è anche giusto offrire un po' di ospitalità, un po' di accoglienza, un po' di solidarietà, sempre ammesso che quell'immigrato abbia i titoli per poter essere in Italia e non sia un clandestino e non sia qualcuno che è entrato approfittando di una mollezza della politica incredibile, quale quella che c'è stata nei governi Renzi, Gentiloni o in genere quelli del centro-sinistra, è chiaro che l'italiano che ha difficoltà, che non è una casa, che è costretta a lasciare la propria terra, abbandonare le proprie famiglie per andare altrove e poi vede che chi viene da altrove riceve vita, alloggio, pocket money, ovviamente al lavoro, percorsi di integrazione e costa 35-40 euro al giorno, è legittimo che si ponga dei problemi e delle domande. Ma qua il razzismo non c'entra, il problema non è il colore della pelle degli immigrati, il problema è una ingiusta sperequazione fra la sofferenza e il patimento che in questo momento stanno vivendo gli ultimi, che sono sempre di più italiani, abbandonati dal sistema, dalla politica, dalle istituzioni e la differenza che si fa con quanto viene concesso agli immigrati. Quando uno dice prima gli italiani, non è che dice che i non italiani sono brutti e cattivi, dice che giustamente un sistema, un ordinamento si deve interessare, secondo me in maniera ovvia, non ce l'abbia neanche bisogno di ripeterlo, prima dei propri membri, dei propri cittadini, di quelli i quali fanno parte della propria comunità e poi solo dopo, indubbiamente, deve offrirsi, anche doverosamente, alla solidarietà, all'ospitalità e all'accoglienza dello straniero. Insomma, questa è la linea chiaramente portata avanti dalla Lega di Salvini, io ringrazio Ettore De Concilis, con il quale sicuramente avremo altre occasioni di confronto per parlare più particolarmente della situazione politica verso le prossime regionali, intanto ringrazio in regia Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, arrivederci.